ciao amici buon appetito il pranzo di oggi vi valuto e consiglio i nuggets di verdure verso natura conad vabbè con finocchi lessi ovviamente pane di soglia sempre pane cereali e soglia che vi ho già fatto vedere valuto il miglior pane in assoluto di conad tutte le marche conad per quanto riguarda i nuggets sono buoni sono tipo una via di mezzo tra gnocchetti e polpettine ingredienti vediamo un po patate pane grattugiato farina paprika lievito di birra fiocchi di patate tofu 8 per cento soglia peperoni rossi carote amido frumento riso piselli avena insomma infatti sono abbastanza saporite valori energetici sono nella norma grassi 9 grammi io le compro sempre quando sono un'offerta arrivano a pagare 1 euro 80 2 euro e 10 insomma ve le consiglio guardate che bella che bella lasatura come sempre io faccio scaldo il forno senza oli o senza fritture che dire sì la marca conad allora i prodotti conad come il pane la pasta secondo me sono i migliori tra tutti i prodotti marchiati diciamo conad s lunga secondo me sono i migliori c'è qualcosa per quanto riguarda le polpette ve le faccio vedere se le trovo ecco siccome le polpette migliori e cotolette migliori in assoluto sono la chioene queste siccome il top in assoluto per quanto riguarda la roba vegana è questo qui però si si può consigliare tutte le marche conad soprattutto quando sono un'offerta dai quando sono un'offerta le prendo volentieri quindi buon pomeriggio e buon appetito grazie a tutti